Le quattro befane che vedremo scendere dal palazzo del comune saranno Sara, Alessandra, Roda e Fesiglia che con acrobazie scenderanno dal palazzo e consegneranno ai loro zaini di là di le caramelle e i bambini che tra poco inviteremo qui sotto il palazzo del comune, qui sotto l'arco. Nel frattempo ringrazio tutte le befane presenti nei centri sociali. Eccolo le befane che ci stanno saltando. Si stanno apprestando a scendere bellissime quattro befane, befane di fermo che si sono tenute in forma saltando da un tetto all'altro, nonostante i lavori di Natalizzi. Eccole, eh? Eccole. Eccole, sono la stella di musica. Bellissime, le faremo di fermo. Bellissime, le faremo di fermo. Grazie. E' un'altra notizia che scelta l'oltrezza di come è. Allora, l'oltrezza è la mezzata. Bellissime le stesse che ha presato il demonio, sai? Allora! Allora, il rompere il risotto. Allora! Allora! Grazie a tutti. 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 I centri sociali che ci ha aiutato, grazie a tutti. e buona serata oggi è la sua festa però oggi è la sua festa abbiamo dato uno spazio di più a lei se sta insieme è la festa dei bambini si fa tutto insieme cerchiamo di fare il nostro meglio ai bambini dolci o carbone si dice carbone ma è il carbone dolce però ho meglio giocattoli e caramelle le lettere dei bambini come sono stati sono stati abbastanza insolienti però qualcuno è un po' particolare hanno fatto delle promesse le promesse le fanno tutti bisogna vedere se le rispettano richieste particolari tipo alcune è impossibile quelle che hanno chiesto perché non è che poi l'hanno fatto i ragazzi abbastanza grandi non sarebbe neanche però c'è il tutto gli iphone che hanno chiesto anche di più anche? il motorino l'hanno fatto è solo oggi si fermo per fortuna a dare una mano a chiudere qua la baracca sono ben esclusiva guarda devi mettere i bambini per mani eh ma non penso che sia papà natale chi è che scrive? allora caro papà natale che sono stato molto bravo per favore desidererei i guanti dopo la portiere la portiere la rivisa un libro la palla i colori un peluce e le scarpe ecco con il disegno anche vediamo a cariore chi la scrive? tanto riceve l'orsetto lupi lupi buon natale in allegria buon natale in compagnia per i bimbi per i grandi per le mamme di papà tanta buona volontà buon natale a roma e roma e roma e roma e roma e roma e roma Grazie a tutti.